Circa 13 milioni di italiani in viaggio per il ponte del 2 giugno è quanto emerge da un'indagine della Federa Berghi, secondo la quale più dell'87% resterà in Italia. Mare, montagna, parchi, città d'arte e bellezze naturali, le destinazioni prescelte. Chi invece si recherà all'estero sceglierà le grandi capitali europee o un viaggio in crociera. Dopo due anni di pandemia riparte quindi anche il settore del turismo e non solo grazie alle previsioni del tempo. Da oggi infatti non serve più il Green Pass per gli stranieri che arrivano nel nostro paese. Cecchini, come si prospetta questa settimana anche in vista delle festività? Abbiamo un ponte eccezionale, giovedì, venerdì, sabato e domenica, veramente bellissimo a livello turistico. Noi siamo sempre legati al meteo, il meteo questa volta ha detto che avremo buon tempo e la gente sta arrivando. Discritte pronotazioni, anzi ti dirò molte richieste e naturalmente il last minute è quello che predilige tutto l'andazio. Ci sono anche persone che vengono dall'estero? Sì, abbiamo gli svizzeri, olandesi, tedeschi. Gli svizzeri che erano anni che mancavano nelle nostre zone, ne abbiamo intervistati, come si vuol dire, chiediamo a loro. Loro dicono che hanno un potere d'acquisto non indifferente e naturalmente fanno piace. E anche il passaparola degli svizzeri perché parecchi fanesi che lavoravano là hanno detto che Fano è una città bellissima, tranquilla. E' quello che predilege la gente, avere una città tranquilla. E naturalmente anche con gli stranieri stiamo facendo un ragionamento. I stranieri che vengono ad Ancona a imbarcarci per la Grecia, abbiamo fatto un accordo con delle agenzie che si fermano qui a Fano e stanno uno o due giorni perché hanno delle mete ben precise come Urbino, Mondavio, Pergola, per visitare dei posti unici. Dunque anche l'entroterra è tra le mete preferite ad attirare turisti, però sono pure gli eventi organizzati sia nelle spiagge sia in diversi luoghi della città. Infatti per le prossime settimane stanno già arrivando molte prenotazioni grazie alle gare di bowling, di pallavolo e di tiro a volo. C'è grande attesa anche per l'Adriatica Ionica Race, la corsa ciclistica professionale che per la quarta tappa, martedì 7 giugno, vedrà partire da Fano alla Carovana, alla volta della riviera del Conero. Avete iniziato a collaborare anche con altre città, ad esempio Modena? A Modena e Parma sta chiedendo molto gli itinerari della bellezza e lì abbiamo fatto un bel accordo perché è diventato tipo il libro del touring. Aspettiamo adesso gli itinerari del silenzio che anche quello varranno alla grande. Quello che ci penalizza è un po' il traffico su gomme perché l'ANA sta facendo i lavori nel nostro entroterra e un po' ci sta penalizzando. Però siamo fiduciosi che ci hanno garantito che cercano di darci spazio il venerdì, sabato e domenica per far passare bene le autovetture.